Proseguiamo il nostro ragionamento sull'epica medievale approfondendo il discorso sui poemi che nel frattempo abbiamo letto. Noi abbiamo affrontato un testo che appartiene al ciclo carolingio e che è la Chanson de Roland. Cosa possiamo dire di questo poema? Che è stato scritto e ha avuto diffusione nella Francia settentrionale, ma i fatti narrati si svolgono anche in Spagna. Quando? È stato scritto nell'undicesimo secolo, però i fatti narrati sono del secolo VIII. L'autore si suppone fosse un tale Turoldo, ma ho messo il punto di domanda perché sono testi che hanno avuto prima un'ampia diffusione orale, poi sono stati scritti, insomma è difficile riconoscere con certezza chi sia stato l'autore. I personaggi principali di questi poemi sono Carlo Magno e i suoi paladini. Orlando, Oliviero, Gano, Namo sono quelli che noi abbiamo nominato. Paladini viene dalla parola latina palatium che vuol dire palazzo reale, cioè i cavalieri scelti da Carlo Magno e che vivono a corte. I temi affrontati sono la lotta contro gli infedeli, quindi il tema religioso, e le imprese dei paladini in armi, cioè in guerra e in battaglia. La lingua è il francese antico, detto anche lingua d'Oil. Proseguiamo. La forma in cui erano scritti erano poemi in versi decasillabi, la ciascone erolandico, raggruppati in lasse, vale a dire in strofe, con numero di versi variabile. La trama cosa racconta? Ci racconta di Carlo Magno e il suo esercito che sono di ritorno da una vittoriosa campagna militare in Spagna. I saraceni, però loro avversari, accordatisi con il traditore Gano, tendono un'imboscata alla retroguardia dell'esercito di re Carlo. I più prodi cavalieri di Carlo perdono la vita, tra di essi il conte Orlando, che è l'eroe da cui prende anche il nome il poema. Re Carlo, prima da sepoltura ai paladini caduti, poi vendica la loro morte, uccidendo prima il re Marsiglio, il suo rivale, che è anche Gano, il cavaliere che li ha traditi. E qui abbiamo un'immagine della scena forse più famosa, quella di Orlando, che in punto di morte suona l'olifante, chiedendo quindi aiuto a Carlo Magno e rivelando l'attacco a tradimento scatenato da Gano da parte poi dei saraceni. Passiamo al ciclo Bretton, di cui non abbiamo letto un unico poema, ma tanti estratti presi da poemi diversi, dove ha avuto diffusione nella Francia settentrionale, però i fatti narrati si svolgono anche in Inghilterra, quando è posteriore rispetto al ciclo carolingio di circa un secolo, quindi siamo nel XII secolo. Gli autori, Goffredo di Monmouth e Chrétien de Troyes, sono i più famosi. I personaggi sono Re Artù e i cavaliere della tavola rotonda, Lancillotto, Galvano, Perceval, ma questi sono i più famosi, ce ne sono anche altri, così come anche di personaggi di altro profilo, come Merlino, il Mago, Ginevra, la Regina, Cina, la Fata Morgana, Viviana, tanti altri. I temi sono quello della ricerca di una purificazione spirituale, emblematica alla ricerca del Santo Graal, il calice che ha raccolto il sangue di Gesù Cristo dalla croce, il tema della nobiltà e cortesia, nobiltà e cortesia non intesi come gentilezza nei modi di fare, ma tutta quella serie di comportamenti che sono tipici di chi vive a corte, di chi è nobile. Il tema amoroso, amore inteso come sentimento che può portare alla purificazione spirituale dell'uomo perché lo induce a nobili atti, infine l'elemento magico è molto presente, tant'è che abbiamo nominato tra i personaggi Merlino e Morgana e anche Viviana era una maga. La lingua anche qui è francese antico, cioè la lingua Doyle. La forma sono poemi in versi ottonari che però erano scritti così originariamente, poi sono stati successivamente riscritti in prosa. La trama, Artù divina re di Camelot dopo aver prodigiosamente estratto la spada confitta in un incudine, si distingue per il valore guerresco e la nobiltà d'animo e subito i più valorosi cavalieri del regno gli giurano fedeltà radunandosi attorno alla tavola rotonda. Partecipano a numerose imprese ma la più eroica di tutte è la ricerca del santo Graal. E qui abbiamo un'immagine tratta dall'animazione della Disney La spada e la roccia dove appunto c'era Artù che estrae prodigiosamente la spada all'incudine divenendo re e dando quindi origine a tutta la leggenda poi narrata nel ciclo brettole.